Nella seconda giornata la Juventus, e non ce ne vogliono i letterati, capisce quanto è duro Calle lo scendere e il salire. Per l'altruiscale sarà la terra toscana, da sempre arcigna, spigolosa, ma la squadra del Trap, alla seconda di campionato, non riesce a superare il modesto Pisa e le reti rimangono bianche per tutti i 90 minuti, anzi i bianconeri, piuttosto sterili in attacco, rischiano di subire, come nell'azione che stiamo vedendo, le ripartenze toscane, come in questo caso con Berggren che tira e per fortuna Tacconi respinge. Poche le idee in attacco per i giocatori bianconeri e dunque gli unici tentativi arrivano dai calci piazzati come questo di Penso, tiro piuttosto centrale e debole e nessun problema per il portiere Pisano Mannini. Poco dopo è tardelli a riprovarci, ma ancora una volta Mannini respinge. Sull'altro fronte è sempre il danese Berggren, nazionale danese, che crea i pericoli nell'area bianconera. Nella ripresa solo un sussulto per i torinesi, con questo tiro di Paolo Rossi, ma Alessandro Mannini ancora una volta respinge benissimo, consentendo così al Pisa di portare a casa un punticino. Per la Juve è una grande delusione, anche perché la Roma vince a Genova e dunque i bianconeri devono accontentarsi di un punto e già la seconda di campionato devono inseguire.